Siamo a Giffoni, la patria del cinema, e noi di Bucco Pallino ci siamo divertiti a reclutare in giro qualche attore. Magari potrebbe diventare la star del prossimo decennio. Mai dire mai! Red! 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 Se te ne vai, che sarà di me? Che farò? Francamente me ne infischio. Chi non ha sognato almeno una volta nella vita di vivere in un film? Oggi noi di Bucco Pallino ve ne diamo una possibilità. Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Ma uno è di Indiana Jones. Guarda, a me piace molto Manuale d'Amore. Mia moglie non è scappata di casa, mia moglie si è momentaneamente assentata. 2012. Tidani. Mi direte... Domain's. Sai parlare? Sì, capo, signore. So parlare. Il favoloso mondo di Ameline. Mi piace molto voltarmi nel buio e osservare le facce degli altri spettatori. Al primo che arriverai in fondo la passerezza. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Tu non puoi passare! Tu sei solo ghiacchierci e inseritivo, tu in mano non hai niente. Vale, gobba. E io l'ado. Ma dice a me. Ma dice a me. Papà gli aveva fatto un'offerta che non poteva rifiutare. Sono andato a letto presto. Mamma diceva sempre. La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non so mai quello che ti capita. Al mio segnale, scatenate l'inferno. 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 Sono pazzi questi romani. Io ti spiezo. Ti spiezo in due. Io 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 ti spiezo in due. Domani è un altro giorno. Domani è un altro giorno. La magia del cinema Ma non pensiate sia tutto così facile Oltre al talento per recitare ci vuole studio e tanta tanta volontà Era perfetta, perfetta Signor Wood si rende conto di quanta arte serva per fare un film Mi piace pensare di sì E come da copione e da performance che si rispetti C'è l'applauso finale Aplausos